benvenuti alla serata champions questa è la serata che può dare una svolta alla stagione del napoli perché il napoli oltre a qualificarsi perché si deve qualificare deve vincere lo so che può perdere anche una zero ma davanti al nostro pubblico dal maratona il napoli lo vince da settembre il napoli deve vincere e deve convincere per dare una svolta alla stagione anche per cercare di lottare alla conquista della champions league dell'anno prossimo che ormai un campionato è andato solo giocheranno le strisciate la juventus e inter però noi almeno in champions ci dobbiamo arrivare questa può essere una partita della svolta se il napoli vince e convince stasera può darsi che i ragazzi anche psicologicamente si riprendono speriamo di essere anche un poco più fortunati a confronto alle ultime uscite che la fortuna non proprio zero ma che conosciamo le dita forza napoli ma che conosciamo le dita forza napoli ma svegliatevi cazzo cazzo sveglia ma che è vai 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 che buona ma che buona via l'anno sicurale e' go e' go e' go e' a causa e e' a causa come cazzo, aiuto aiuto, aiuto, aiuto ci sono le poche fortuna, le avete detto prima non poche fortuna, non poche fortuna eh cacca ma fa un c***o ha fatto tutto, ha fatto tutto ma tieni il c***o io allora libero ehi sei venuto a farlo, capito vai 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 oh ti vuol trovare ancora il gioco eeeh va bene va bene vai 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 mi piace mettere la comportanza che ha disbloccato con questo gioco però non esagerare, non esagerare hai fatto la prima jugueta buona ora devi fare una facile bravo vai 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 dagliela, dagliela, dagliela ma porca c***o di una c***a c***o vittor, vittor 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 porca c***o mamma mia porca la fangu non dire parolacchi, se no chiamo la polizia mamma mia ma chi sa ma quando è che vuoi cominciare a correre? non ci sono non c***o ma io 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 non c***o quando vuoi cominciare a correre? non c***o per me, non c***o va bene finito il primo tempo l'inizio è stato poi per fortuna abbiamo segnato ecco quella fortuna che ho detto all'inizio 2 a 0 ora dobbiamo stare tranquilli dobbiamo fare almeno un altro golo perché c'è bisogno di una vittoria roboante roboante al secondo tempo ha iniziato il secondo tempo forza Napoli è saltato infinito si è arrepigliato e se non è da zona è infinita e se non è infinita è da zona e se non... Marona è più giugata vai vai è il tuo beleno chissà è il tuo beleno chissà è il tuo beleno è il tuo beleno chissà è il tuo beleno è finita la partita ci siamo qualificati finalmente senza subire gol e come hanno detto a Infiniti è un malato ancora convalescente però va bene ci siamo qualificati e ora pensiamo al campionato dobbiamo metterci di nuovo in linea il campionato e finalmente arrivano i primi vittori in Gaule 1 settembre forza Napoli sempre sempre Grazie a tutti.